buonasera francesca buonasera roberto buonasera ai nostri telespettatori elegantissima grazie complimenti come mai sei in vena di complimenti sono in vena di complimenti perché io dico sempre la verità e stavolta sei elegante nascondi qualcosa lo so allora quella che ci stiamo lasciando alle spalle è stata un'estate di grandi polemiche come sempre e poi si è parlato tanto di campo largo ecco quindi capiremo perché di querele di libertà naturalmente di parola parleremo più avanti perché abbiamo molti temi ma di questo campo la quando dico campo largo c'è l'ospite il primo ospite poi ci arriveranno subito che sorride campo largo ora come sorridere ma che cosa succede voi due che vi fate i complimenti così in prima serata bello bello è così auto presentato matteo renzi lo sentiremo fra poco dobbiamo capire però se questo matrimonio sa da fare non sa da fare e iniziamo subito col nostro primo servizio di simone savoia campo da calcio ok basta che sia largo però 16 luglio l'aquila partita del cuore nazionale cantanti contro nazionale politici vincono gli onorevoli ai rigori durante i tiri dal dischetto l'abbraccio tra la segretaria del partito democratico elislein e il leader di italia viva matteo renzi giuro di essere fedele alla repubblica certi amori politici fanno giri immensi e poi ritornano come tra il partito democratico e l'uomo che nel 2014 lo guidò da presidente del consiglio e segretario al record di voti alle elezioni europee 40,8 per cento però renzi non mette d'accordo tutti anzi è divisivo come si dice chi ha avuto dei passi un po eccessivi diciamo di convergenza con la destra deve avere il tempo e il modo per rimettersi in una carreggiata giusta no pier luigi bersani fa il poliziotto stradale aspetta che renzi rientri nella corsia del centro sinistra mentre giuseppe conte leader del movimento 5 stelle non dimentica lo sfratto fiorentino che il 26 gennaio 2021 lo sloggiò da palazzo chigi a chi gli domanda di renzi risponde così per noi la politica è una cosa seria io ho visto prego altra domanda matteo renzi crea malumori anche tra gli stand dell'intramontabile festa dell'unità con o senza asterisco i militanti del pd non dimenticano l'addio del segretario fiorentino il 17 settembre 2019 da campo largo a rissa è un attimo ok panico per essere alternativa credibile a giorgia meloni il centro sinistra deve raccogliere il centro di renzi e ciò che resterà del movimento 5 stelle di conte dopo la probabile rottura con beppe grillo perché la politica si fa anche con il pallottoliere ma non è facile costruire alleanza sinistra anzi è difficile quasi come un amore ti amo ma non mi piace più mi dispiace bene sempre bellissimi servizi anche i messaggi del pubblico il numero quello che vedete in sovrimpressione appena hanno visto renzi si sono scatenati nel bene nel male renzi è divisivo e questo campo largo insomma è la certificazione che le renzi un po divisivo o no io penso che agli italiani che ci seguono da casa interessino delle risposte sulle questioni politiche e le questioni politiche non sono chi va d'accordo con chi anche perché abbiamo visto la scena dell'aereo più pazzo del mondo voi l'avete dedicata al centro sinistra vedendo quello che è successo quest'estate uno potrebbe dedicarla paro paro al centrodestra e tajani che litiga con salvini che discute con vannacci la famiglia meloni eccetera allora andiamo sulla sostanza noi abbiamo un problema grande che si chiama stipendi che si chiama salari che si chiama accetto medio su questi temi c'è una proposta del centro sinistra più credibile di quella del centrodestra se c'è lo vedremo durante la discussione sulla legge di bilancio e ci confronteremo in parlamento c'è un tema che riguarda la sanità liste d'attesa la gente non ce la fa più e stia attento che nel mondo di oggi è incredibile come la sanità stia cambiando oggi notizia di oggi il vaccino dell'm rna per il tumore ai polmoni cioè l'investimento sulla ricerca e io dico sull'innovazione sui vaccini permette di sconfiggere forse vedremo non diamo messaggi di speranza eccessivi persino forme tumorali devastanti allora su questi temi discutiamo no su questi temi noi ci siamo e vogliamo fare un'alleanza sui contenuti ma in questo campo largo pensa davvero che sia un'intesa possibile un'alleanza anche nel lungo nel lungo termine ma soprattutto avete dei punti davvero d'incontro su cui potete basare anche la vostra e richiedere la fiducia agli elettori assolutamente sì sapendo che ci sono alleanze tra diversi perché quando uno dice ma renzi ha mandato a casa conte per portare draghi una vicenda di tre anni fa io non ho nessuna abiura da fare lo rifarei domani mattina cioè non è che ho cambiato idea se ragioniamo del passato saremo sempre a litigare il futuro che cosa vede da un lato c'è il centro destra secondo me il centro destra non sta salvando questo paese questa è la mia opinione dopo averli visti all'opera per due anni la meloni aveva fatto un sacco di promesse e oggi siamo a discutere della famiglia meloni e non delle famiglie degli italiani ecco però ecco tutti allora l'alternativa per rispondere a barra e vengo subito da lei poletti qual è l'alternativa è capire quali sono i punti concretamente proviamo a fare degli esempi la meloni ha fatto una legge sull'autonomia noi non siamo d'accordo abbiamo firmato un referendum abbiamo fatto abbiamo raccolto delle firme per un referendum che si terrà tra aprile e maggio quello è un primo tema su cui ci si gioca un pezzo di futuro autonomia è importante non per l'aspetto istituzionale è importante perché dipende la sanità del sud dalla legge sull'autonomia la burocrazia del centro nord dalla legge sull'autonomia ho fatto un esempio perché barra mi ha chiesto un esempio potrei farne molti altri me ne limito uno che per me è fondamentale il servizio del tg 5 ha detto 8 milioni di ragazzi tornano a scuola avete presente quanto costa una famiglia oggi mandare un bambino una ragazza a scuola non solo ma tanti dei ragazzi che lasciano il liceo o l'istituto e vanno all'università rischiano di non restare in italia possiamo parlare di come agevolare la formazione e l'educazione anziché bla 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 ecco questo questo è molto giusto e sono discorsi che fanno presa su chi ci ascolta perché parla di cose concrete allora glielo può dire ai suoi potenziali alleati del campo largo perché quando se ne escono i 5 stelle che dicono se arriva Renzi noi non siamo della partita se l'alternativa se bisogna creare un'alternativa di buon governo l'alternativa alla meloni perché questi fanno così e fanno il problema Renzi mi scusi e lo dica loro io penso che i 5 stelle abbiano altre faccende in cui sono affaccendati in questo momento però i numeri lei conosce meglio di me vale a dire le discussioni interne quanto ai numeri è vero noi non abbiamo più ho visto le immagini di dieci anni fa non abbiamo più il 40 per io non ho più il 40 per cento no no che c'entra 234 per cento 1 2 3 4 5 scelga lei un numero sarebbe comunque decisivo perché nei collegi marginali ce la si batte lì l'altra volta perché ha vinto meloni diciamola questa cosa meloni ha vinto perché è stata brava per carità ma ha preso il 26 per cento del voto degli italiani dall'altra parte il centro sinistra era totalmente diviso per mettersi insieme però bisogna non parlare più del passato le aviure non si chiedono e si ragiona del futuro però guardi il fatto quotidiano cosa hanno detto i militanti faceva riferimento a questo guardate fatemelo vedere per favore che lo rivede volentieri anche Renzi il fatto quotidiano lo rivedo sempre con piacere che con tutte le querele che ho vinto col fatto quotidiano beh però questa qui non è nada querela però gliene faccio vedere un altro il tempo allora invece secondo il tempo c'è addirittura una parte del pd quindi ci sarebbero dei big pronti a dare vita ad una nuova corrente per farla entrare quindi lei è sereno entrerà io sto sereno per definizione diciamo che il carattere e il nome però parliamoci chiaro io non rientro nel pd il pd ha una sua segretaria che si chiama ellie schlein che ha idee molto diverse da me su tante questioni ma sulla maggioranza delle idee si può trovare un punto di compromesso questo deve essere molto chiaro perché perché la segretaria del pd ha detto una cosa importante ha detto in questa estate dove l'italia è stata appresso ai complotti inventati dalla famiglia meloni diciamo ai complotti inventati dalla famiglia meloni c'è un tema che è molto più importante che è quello di dire se vogliamo creare un'alternativa bisogna che si superino i veti dopodiché il fatto quotidiano è un giornale il partito democratico è un partito il leader del partito democratico si chiama anzi la leader ellie schlein non marco travaglio quindi la linea la da ellie schlein dopodiché io insisto perché questo è il punto fondamentale tutti a ragionare della fidanzata o della moglie la prima battaglia la prima battaglia che le faccio un altro esempio a proposito dell'agricoltura visto che abbiamo un ministro dell'agricoltura che fa notizia solo per questioni di gossip tutti noi abbiamo mangiato un piatto di spaghetti alle vongole d'estate giusto non ce n'è uno che non abbia mangiato un piatto di spaghetti alle vongole secondo me più o meno buone perché perché le vongole sono un prodotto tipico italiano il granchio blu le sta distruggendo e un anno fa il ministro dell'agricoltura raccontava che avrebbe sistemato questa vicenda visto tutto la parla del made in italy la peste suina mette a rischio i nostri salumi allora possiamo parlare di questi temi io parlo di temi concreti su questi temi sono pronto al confronto con chiunque con l'ollo brigida si arriva in tempo e non ferma un treno per arrivare all'appuntamento sono pronto a parlare con salvini e calderoli dell'autonomia sono pronto a parlare di sanità sono stato in carcere lo dico per chi ci ascolta in visita in carcere in questa estate e ho visto che il decreto legge fatto dal nordio non serve a nulla aveva promesso un decreto legge per risolvere prima delle carceri e non lo ha fatto allora su tutti questi temi trovatemi uno del centro-destra che è disponibile a fare un confronto io vengo volentieri quanto alle divisioni interne del centro-sinistra ce ne sono sono tante non sono ben diverse da quelle del centro o vogliamo parlare dello ius scuole e di tagliare quindi ultima domanda io sono favorevole perché lo sono tutti gli italiani che a casa vedono i propri figli stare in come compagni di avere come compagni a classe dei ragazzini nati in italia che hanno fatto la scuola in italia e a cui non viene data la cittadinanza mentre diamo 85 mila cittadinanze ai tris nipoti di persone che stanno in sud america che sono bravissimi per carità ma non hanno mai visto l'italia neanche ultima domanda stante che siamo renzi il paese che dà più cittadinanza in europa ma non è vero anche su questo anche su questo è una tipica questione della lega attenzione in germania ci sono meno cittadinanze perché c'è un sistema di acquisizione automatica della cittadinanza diverso da quello italiano però anche lì scusate noi ci esaltiamo quando vediamo un ragazzo vincere la medaglia d'oro alle olimpiadi e diciamo viva l'italia e sentiamo il tricolore ci mettiamo la mano sul cuore e poi non diamo ai bambini che vanno a scuola in italia un insieme di ultima domanda e di doveri perché abbiamo i minuti contati preme molto vogliamo sapere che autunno ci aspetta ah sì lo vuoi sapere tu vuoi leggere tu vuoi leggere i messaggi no no se vuoi leggere questa questa domanda questa risposta sono previsioni del tempo non sono in grado di fare dal punto di vista economico mi piacerebbe che giorgia meloni mettesse i soldi che vengono dal recupero della diciamo delle tasse c'è un aumento del recupero fiscale che li mettesse per gli stipendi delle famiglie perché secondo me chi è andato al mare si rende conto che è aumentato tutto dall'ombrellone alla cabina torna aumenta la spesa dobbiamo mettere soldi nelle tasche italiani e questo vuol dire meno spreche allora come quelli che sta facendo ringraziamo Matteo Renzi non la stiamo censurando erano i suoi minuti ma a proposito guardi sui sulle famiglie ad aiutare tutte queste belle cose sa che la pensa come la meloni perché la meloni oggi ha lanciato questo messaggio che dice appunto mi rimbocco le maniche e aiuto tutti almeno parliamo delle famiglie degli italiani e non della famiglia e avanti tutto allora con la meloni e altri ospiti poi alla prossima ci sono ci sono ci sono